Buongiorno e buon martedì 6 novembre. Benvenuti al nostro ormai quotidiano appuntamento con la Rassegna Stampa. Iniziamo ad analizzare i quotidiani locali a partire dal quotidiano del Molise. Argomento comune in questo periodo è sicuramente il sistema e le votazioni a cui il Molise presto andrà. Il quotidiano infatti titola elezioni big del PDL appoggiano Iorio. L'onorevole Patriciello e l'assessore Vitaliano si schierano a favore della sua ricandidatura. La base è in subuglio. Sottotirò le affermazioni del coordinatore di Giacomo che aveva stoppato le fughe in avanti. Campobasso si insedia il nuovo prefetto di Menna. Torno nel mio Molise. Francesco Paolo di Menna, 62 anni, originario di Agnone. Chiedo scusa. Romano tenta i grillini. Uniamoci e faccio un passo indietro. Ancora politica consiglio regionale. Il stand by Pietracupa corre da Catricalà. Esce di casa e scompare nel nulla. Giallo a Tavenna. Di lei non si sa più nulla dalla fine di ottobre quando il convivente ne aveva denunciato la scomparsa. Ancora Campobasso rapina in orificeria. Omertà per impedire la cattura dei complici. A Esernia il gattino non ha il biglietto sul pullman. Il controllore lo multa. Andiamo a Boiano. Vertenza al lavoro. Sull'Agrital respira. Aia proroga il contratto per altri sei mesi. Per quanto riguarda lo sport di Lega Pro, panchina rosso-blu spunta il nome di Favo. Ipotesi Luiso. Capone ha dichiarato tutti fuori anche la dottoressa Anna Favi. Per il basket coach Mascio analizza la sconfitta col Barletta. Andiamo ad analizzare le pagine interne. Consiglio sospeso. Riforme in stand-by. Per capire come operare il presidente Pietracupa incontrerà Catricalà. Fisco, accordo Equitalia e Ancot. È stato firmato il protocollo d'intesa per l'assistenza in materia di riscossione. Su pagamento delle imprese dalla pubblica amministrazione i tempi si stringono. Soddisfatto l'eurodeputato Aldo Patriciello. Ancora la politica, PDL, Vitaliano e Patriciello con Iorio. I due big del partito si sono schierati col presidente uscente e la base è in subbuglio. Sottotiro le affermazioni del coordinatore Ulisse Di Giacomo che aveva dichiarato no a fughe in avanti. Il governatore intanto riapre il dialogo con cittadini e amministratori. Uniamoci, faccio un passo indietro. Massimo Romano tenta l'ultima carta per l'alleanza con il Movimento 5 Stelle. Così le chance di vittoria aumenterebbero e Iacovino non si sbottona sulla candidatura. Primari e PD, Raciti, Molise tira la volata a Bersani. Riesce a fare sintesi. Bene, e adesso vediamo il quotidiano telematico in forma molise. Romano a 5 Stelle pronto al passo indietro pur di equalizzare e costruire democrazia a Movimento 5 Stelle. Federico smentisce la candidatura dell'Avvocato Iacovino con 5 Stelle. E ancora dopo l'allonamento delle elezioni il teatrino della politica ha già aperto i battenti. Per i Molise malato la medicina del Movimento 5 Stelle. Molise, Cafone, la ricetta del giorno, carne coi tarocchi. Palavazieri chiuso, Durante, dichiara tutto come da copione e noi eravamo i terroristi. E adesso invece passiamo ad analizzare la gazzetta del Molise, in particolare a chi quest'oggi viene assegnato il tapiero e a chi l'Oscar. Quest'ultimo, l'Oscar, viene assegnato proprio a Simone Cretella, responsabile di fare verde Molise. Nella mattinata di domenica, infatti, unitamente ad altre amici, è organizzato la pulizia della colina Monforte a Campobasso. Il tapiero del giorno invece viene assegnato a Filippo Basso e Nicola Rosato, i commissari ad Accata della Sanità. Hanno proposto che vengano spazzati via i vertici dell'Asremo Molise, così per fare posto a chi. Il loro ruolo invece doveva essere quello di aiutare a creare un percorso per la nuova ossatura del sistema sanitario regionale. E anche per la gazzetta andiamo ad analizzare le pagine interne. I capigruppo si interrogano cosa possiamo fare dopo la sentenza del Consiglio di Stato dubbi sui provvedimenti da poter adottare. Il presidente Pietra Cupa colloca con Catricalla per delineare un percorso. Per costruire democrazia l'accusa di Durante, Di Pietro dimentica di avere imbarcato tanti ioriani. Di sabato rilancia la Federazione delle Sinistre per un'area antagonista al PD. Iorio intanto rilancia prima il Molise, pronto lo slogan che animerà la campagna elettorale del presidente della regione. Il governatore incassa il sostegno della sua maggioranza, ora punta sui sindaci e soprattutto sulla gente comune. E adesso invece passiamo a primo piano. Anche qui naturalmente si riprendono i temi politici. Grillo Romano promessa di matrimonio. Il leader di costruire democrazia al Movimento 5 Stelle è pronto a fare un passo indietro per costruire un polo civico. Intanto è bagar sulla legge elettorale. Il PD chiude le porti all'eliminazione del voto disgiunto. Tavenna, donna di 49 anni, scomparsa nel nulla da 10 giorni. Al setaccio il PC e le mail di Mariangela Faustini. Campobasso si riprende la rapina in gioielleria. La bossa al jeep eravamo in 5. La ferraiolo svela anche impugnavamo pistole giocattolo. A Montaquila vola nel burrone con l'auto vivo per miracolo. Il cinquantenne ha sbandato all'altezza del Ponte degli Uccelli. A Termoli, vertice infuocato. Di Rocco vuole l'assessore per la DC. Di Brino intanto nomina Augusta Di Giorgi, nuovo titolare dell'ambiente. Ancora a Campobasso esce dal coma lo studente di architettura. Un mese fa sul treno il suo cuore si fermò per 50 minuti. Poltronissima via i gruppi. Al loro posto le imprese individuali consigliari. Più facile controllare come si spendono in questo modo i soldi pubblici. Isernia trova un boa nel letto. Signora sotto shock finisce in ospedale. A Boiano sette avvisi di garanzia per due assunzioni irregolari al comune. E adesso lo sport. Calcio di Lega Pro, Lupi, rifondazione ancora in corso. Il club chiude a Gigi Molino. Di vicino è Pignalosa per rinforzare l'organico. Anche qui andiamo ad analizzare le pagine interne. Romano 5 stelle, l'alleanza decolla. Sono più giovani di Renzi, sostengo Bersani. Il capo degli under del PD Fausto Raciti è a Campobasso. Il segretario è l'uomo giusto per fare unità. Una cena per raccogliere fondi. Poi l'evento Clou, vendola in Molise il 18 novembre. Ufficiale la chiusura di quattro uffici postale e guerra fra UGL e CISL. Questo è il piano di razionalizzazione messo in atto da poste italiane. Legge elettorale. Il PD dice no all'abolizione del disgiunto. Leva boccia all'ipotesi. Regola d'uso e consumo della maggioranza. Niro discutiamole. Il crepuscolo della decima legislatura è così che titola. Quattro punti in agenda. Il rebus sanità. Il consiglio di via 4 novembre torna in seduta. L'Italia recepisce la direttiva sui pagamenti della pubblica amministrazione. Patriciello dichiara un atto che restituisce dignità alle imprese. Adesso passiamo ad analizzare i fatti del nuovo Molise. Patriciello, io e Michele insieme. L'europarlamentare sostiene il presidente della regione. Un'asse di ferro per il Molise. Ricostruire un centro-destra competitivo. E su Di Giacomo dice unire e non dividere. Intanto scompiglio nel PD. Incarichi alla Fanelli che sta con Renzi. Massimo Romano pronto a unirsi ai grillini per una politica pulita e concreta. Anche qui andiamo a vedere le pagine interne. Michela Fanelli scompiglia il PD Irrani e Di Filippo nella bufera. I presidenti di Emilia Romagna e Basilicata accusati dal partito. I governatori bersagnani hanno assegnato incarichi regionali a chi oggi appoggia Matteo Renzi. Romano, il Di Pietro in salsa a Matesina pronto ad unirsi ai grillini. Sabato assemblea pubblica di costruire democrazia per chiarire finalmente le posizioni. Patriciello, io so con Iorio. L'euro deputato rompe gli indugi sulla candidatura a presidente della giunta regionale. L'esponente del PD infatti preferisce mantenere un profilo basso sulle posizioni di Di Giacomo. È precisa, dobbiamo aggregare e non dividere. Crediti verso le pubbliche amministrazioni. Bruxelles impone. Pagamenti entro 60 giorni. L'Italia recepisce. Patriciello, tanto è soddisfatto. E passiamo adesso al tempo, naturalmente la pagina dedicata al Molise. La rapinatrice copre i complici. Arrestata dopo un colpo da 300 mila euro alla gioielleria Tangredi. Michela Ferraiolo interrogata dal GIP Pepe. Ho fatto tutto da sola. A campo marino picchia due ambulanti, commerciante denunciato. Ancora a campo basso, sicurezza e lotta alla crisi nell'agenda del nuovo prefetto Francesco Paolo di Menna. Regione romano si allea con il Movimento 5 Stelle. L'esponente di costruire democrazia apre ai grillini in vista delle elezioni. Frontali sulla Bifernina, al Bivio di Fossalto, grave purtroppo una ragazza. Bene, adesso invece passiamo alle testate nazionali. Casa Bianca duello all'ultimo voto e così che apre quest'oggi la Repubblica. Obama e Romney sul filo di lana stanotte l'America sceglie. Il Presidente chiude la campagna elettorale con Springsteen. Lo sfidante e come me gli USA tornano a rugire. Sarà decisiva l'affluenza alle urne. Scandalo marzotto, maxi sequestro di beni, evasione fiscale, bloccate case e azioni per 65 milioni. La grillina ribelle, siamo come esentologi. La salsi isolata, i divi donati, si dimette. Appalti il viminale nella bufera, si dimette il vice capo della polizia. Cancellieri, Izzo resti al suo posto. Adesso passiamo al quotidiano torinese. La stampa ha deciso di aprire naturalmente con le votazioni in America. Obama e Romney, l'America sceglie. Oggi le elezioni. I sondaggi confermano il test a test a livello nazionale, ma negli Stati in bilico il Presidente è avanti di un soffio. Decisiva l'affluenza. L'ultimo sprint in Ohio, come il paese, riprenderà a correre. Detrazioni, si riparte da zero. In forze, spese veterinari e palestra. Grilli, trovati i fondi per i malati di SLA. L'Istat Italia in rosso, anche nel 2013, la disoccupazione tornerà sui livelli degli anni 80. Uno specchietto anche per Bersani, alle primarie in 2-3 milioni. Cittadinanza a chi è nato qui. Adesso passiamo ad analizzare il Corriere della Sera. Ora, meno tasse sul lavoro. Entrate, tributare meglio del previsto, più 3,8. Analisi dell'Istat che avverte nel 2013 disoccupazione in salita e PIL giù di mezzo punto. Obama, fidatevi ancora di me, Romney, il domani sono io. L'America sceglie, i legali democratici e i repubblicani già litigano sulla legittimità del risultato in due stati chiave, Florida e Ohio. Viminale, vertici a rischio per l'inchiesta sugli appalti, respinte le dimissioni del vice capo della polizia. Qui si riprende quello che è successo ieri a Gianfranco Fini, urla e uno schiaffo al funerale di Pino Rauti. Donne in marcia contro la slot machine, a Pavia un gruppo di moglie e madre di giocatori chiede al giudice di fermarli. Bene, e adesso passiamo al giornale. Naturalmente apre con quello che è accaduto a Gianfranco Fini. Insulti e sputi a Fini. L'uomo di Fiuggi e Monte Carlo contestato e strattonato al funerale di Rauti. I missini urlano, sei come badoglio. Di Pietro fermato dalla gente per strada. Tonino, compraci una casa. Leader al tramonto. Se un procuratore donna smonta il processo, rubi la testimonianza in aula. Ingroia getta la maschera, sono di sinistra. Outing senza pudore. Marina sfodera gli artigli, De Benedetti stia zitto. Questa è la polemica sul lodo Mondadori. Bene, adesso passiamo a Libero che apre. Sputi a Fini. Il presidente della Camera accolto da insulti e tentativi di aggressione. Grave errore. La sua carica merita rispetto. La sua provocazione indifferenza. Tutto questo è successo ai funerali di Rauti, come già detto. È partita la caccia al seggio, dal vento a Tonino, assalto al carro di Grillo. Ma la militante del punto G accusa, siamo come Scientology. La Fornero caccia i cronisti, se no mi tocca pensare. Questa l'ultima impresa del ministro. Adesso passiamo ad analizzare il quotidiano economico. Il sole, 24 ore. Via alla stretta sugli statali. Contratti a termine, scelta alle parti. I stati disoccupati verso 11,4%. Pronti i decreti che eliminano 6.000 posti per i tagli di spesa. Una circolare della Fornero rivede la riforma. Monti apre il dossier fin meccanica, vertici sotto esame. Verso una richiesta di chiarimenti a Orsi. Anche il sole, 24 ore, riprende le votazioni in America. Obama, Romney, sfida finale sull'industria. Presidenziali USA. Oggi gli americani alle urne. Competitività e occupazione dominano la scena. Marzotto, sequestrati 65 milioni. Nel Mirino, la holding lussemburghese. I legali del gruppo, sequestro infondato. Inchiesta sulla cessione del marchio Valentino. 13 indagati per omessa dichiarazione dei redditi. Bene, a questo punto passiamo all'informazione sportiva. A partire dal quotidiano milanese, la Gazzetta dello Sport. Naturalmente copertina, prima pagina dedicata alla Champions di questa sera. Faraone, prenditi il Milan. Gagliani prolunga il contratto di Eles Sharawi fino al 2018 e lui stasera cerca la svolta in Europa. È il capocannoniere più giovane dagli anni 30. Allegri avverte, vorrei restare. Champions a San Siro alle 20.45 contro il Malaga di Pellegrini. Juve, tentazione. Pogba in Coppa, ma arriva una Tegola. Vucinic, KO contro il Nordsealand potrebbe trovare spazio il francese. Per quanto riguarda l'Inter, il nodo Schneider, nessun problema con il turnover. Napoli, Mazzarri ricovero in clinica, problemi al cuore, ma dichiara che sta bene. Serie B, il Verona batte il Sassuolo e vola a meno tre dalla vetta. Il Modena 1-0 con la Juve Stabia. Adesso passiamo al Corriere dello Sport. Milan, Coppa e Balotelli. Stasera contro il Malaga in palio la qualificazione di Champions. Intanto Galliani rivela un sogno. Sono pazzo di Balotelli e l'operazione si può fare. Possiamo cedere dei rossi. Questo l'annuncio di Baldini. La Roma valuta eventuali offerte. Abete sul rosso a Liechtenstein era a ragione Moratti. Il giocatore bianconero doveva essere espulso. È stato un errore, ma lasciamo fuori la politica. Juve Inter non finisce mai. Analisi di una crisi. Napoli alla sbarra. Ecco perché Cavani non basta. In vista del derby, Lazio agitata. Faccia a faccia, Petkovic giocatori. Palermo, l'aria è pesante. Fuori chi sbaglia. Questo ha detto la società con Gasperini. Marotta non c'è, ma la fede alla fine i conti tornano. Milito intanto accusa, ho visto cose più gravi del solito. Bene, finisce qui la nostra rassegna, ma prima di salutarvi vediamo insieme le previsioni del tempo. Il meteo è offerto da Esperienza, professionalità, affidabilità. Accademia Britannica ed International House sono il riferimento nazionale ed internazionale nel campo dell'insegnamento delle lingue straniere e delle vacanze studio in Italia e all'estero. Previsioni meteo per martedì 6 novembre 2012. Continua il flusso umido sud-occidentale che porta a nuvolosità irregolare. Poche nubi sulla costa si intensificheranno nella notte provocando qualche rovescio sparso. Annuvolamenti di maggior spessore saranno invece presenti su versanti ovest della dorsale appenninica, ma difficilmente si avranno precipitazioni. Temperature in calo, specie in serata, venti moderati, mari generalmente mossi. Vediamo ora in dettaglio le temperature. Campo basso, minima 9, massima 15 gradi. Isernia, minima 11, massima 20 gradi. Termoli, minima 16, massima 20 gradi. Il meteo è stato offerto da Esperienza, professionalità, affidabilità. Accademia Britannica ed International House su nel riferimento nazionale ed internazionale nel campo dell'insegnamento delle lingue straniere e delle vacanze studio in Italia e all'estero. Per quanto riguarda la rassegna stampa è tutto. Grazie per essere stati con noi. Vi ricordo l'appuntamento con la nostra informazione alle 13.50 se vorrete. Buona giornata. Grazie.